Cos'è Matomo? Matomo è uno strumento gratuito e open source che si può inserire nel proprio sito web, sia pubblico che intranet, per raccogliere dati statistici in conformità con il GDPR. In genere si installa su un server dedicato o su una macchina virtuale. È possibile anche usarlo nella soluzione cloud, ospitata sul server stesso di Matomo, anche se è preferibile avere il pieno controllo dello strumento. Per chi conosce già un minimo gli strumenti di analisi, Matomo è simile a Universal Analytics, cioè la versione 3 di Google Analytics, che poi è cambiato molto nella versione 4. In effetti l'interfaccia di Matomo è piuttosto semplice da usare e ci permette di avere tutte le informazioni che ci servono sul nostro traffico. Pagine visitate, file scaricati, link cliccati, provenienza del traffico e degli utenti, acquisizione, campagne otm, obiettivi e via dicendo. Nella sua versione cloud i plugin sono compresi e non dobbiamo pagarli, però c'è da dire che il costo della soluzione cloud di Matomo può essere molto alto, soprattutto per siti medi e grandi, considerando che varia in base al numero di hit che riceviamo e ogni caricamento di pagina corrisponde a un hit. I plugin che possiamo installare sono a pagamento e gratuiti. In questo corso vedremo come installare Matomo, come configurarlo e come utilizzarlo. Prima di arrivare a ciò parliamo brevemente di alcuni argomenti utili a comprendere meglio perché usare Matomo.